un saluto da ivan paparella e ben ritrovati sul canale youtube di cellulare magazine oggi conosciamo realme 9 pro plus ve lo dico subito l'ennesimo smartphone ben riuscito da parte di realme un'azienda che sta crescendo a ritmi vertiginosi questo è dovuto certamente delle scelte molto ben ponderate dal punto di vista commerciale che riescono a far convergere prodotti di indiscutibile qualità con prezzi che risultano particolarmente centrati per il tipo di prodotto offerto questo realme 9 pro plus va a sostituire insieme alle altre versioni che sono state presentate mi riferisco alla versione pro la versione i un'altra famiglia molto fortunata mi riferisco a realmi 8 ea tutte le sue versioni in realtà la rincorsa un po più lunga perché c'era anche realmi 7 realmi 6 eccetera eccetera stiamo parlando quindi di quella fascia di mercato medio alta quindi che ha l'ambizione di avvicinarsi un pochettino ai top di gamma ma per ma con caratteristiche tecniche un pochino più contenute fatto che ci permette anche di avere dei prezzi un pochettino più bassi però qui in questo caso ci sono dei punti esclamativi che vengono disseminati quella nelle specifiche tecniche che fanno sì che questo telefono per l'ennesima volta alla potenzialità di offrire qualcosa addirittura di più rispetto a quello che il suo prezzo di partenza potrebbe farci osservare vorrei partire innanzitutto da un dettaglio estetico allora il telefono sarà disponibile in tre diverse colorazioni noi abbiamo ricevuto questa colorazione più scura che come potete vedere in base all'incidenza della luce crea qualche riflesso particolarmente piacevole però ci sono altre due colorazioni una in particolare che si chiama sunrise blu che ha la capacità di cambiare colore in base alla luce in sostanza ci sono due layer con trattamento fotocromatico tipo quello immagini tipo quello degli occhiali per capirci e con il giro di pochi secondi si può passare dalla colorazione azzurra al rosa rosso quindi è un effetto molto molto particolare che non c'è sulla versione che stiamo provando ma fa parte delle cose particolari che troviamo su questo realmi 9 pro plus ve ne faccio vedere una un'altra immediatamente la troviamo subito qui nel realmi lab quindi in quella sezione del telefono dove ci sono delle cose ancora in fase di sperimentazione che non sono ancora definitive misurazione della frequenza cardiaca in questo caso noi abbiamo la possibilità utilizzando le potenzialità del fingerprint di misurare la nostra frequenza cardiaca adesso vediamo se si la sta la sta leggendo sono in una condizione non semplicissima perché ho la macchina fotografica davanti a me adesso sto anche parlando il battito cardiaco è palesemente accelerato al termine dei 15 secondi ci sarà una misurazione definitiva potete avere anche una cronologia e al termine della misurazione vi viene anche chiesto se state operando in in una situazione di stress o se siete a riposo quindi per tenere anche sotto controllo questo importantissimo dato della nostra della nostra salute per il resto abbiamo a che fare con un telefono costruito con scocca metallica la parte posteriore ha un trattamento lucido che tende a in maniera direi fin troppo fin troppo semplice ma è davvero molto molto bello con questo questa sorta di isola più o meno rettangolare quasi quadrata che ospita le fotocamere ma facciamo una cosa andiamo con ordine e vi racconto un po' tutte le specifiche di questo realmi 9 pro plus partiamo dal display un pannello amoled con la diagonale da 6,43 e pollici e risoluzione da 1080 x 2400 pixel un buon piccol di luminosità con anche la possibilità di avere il refresh rate fino a 90 hertz non arriviamo ai 120 di moltissimi altri smartphone ma devo dire che sono ben più che sufficienti per una proposizione molto fluida dei contenuti da parte del telefono nella parte superiore abbiamo anche la capsula auricolare la fotocamera frontale posizionata lì in alto a sinistra e i pulsanti che ci permettono di interagire con android 12 e la real mi ui in versione 3.0 quindi l'ultima l'ultima versione a quello qui aggiornato alla versione 3.0 tra le altre cose vi volevo far vedere un altro dettaglio visto che ci siamo ne approfitto per approfondire qualche dettaglio della scheda tecnica visto che ci troviamo dimensity 920 processore è un processore di fascia medio alta di media che devo dire che spinge anche con un buon buon vigore non ci sono mai rallentamenti un sistema direi anche piuttosto bene ottimizzato con in questo caso 128 giga di archiviazione ma c'è anche la versione da 256 ve lo dicevo poco fa e 8 giga di memoria ram però potete utilizzare anche quella funzione che oramai molto diffusa nel mondo degli smartphone android di boost della ram potete aggiungere addirittura fino a 5 giga quindi potete arrivare a 13 giga complessivi perché il telefono va a prendere 5 gigabyte dalla memoria fisica che vengono allocati nella disponibilità della della ram ecco che avete addirittura un quantitativo di memoria che è fin troppo direi addirittura esagerato comunque sia è meglio averne un po di più che averne che averne di meno di memoria ram perché ovviamente la gestione del multitasking ne risente in modo assolutamente positivo torniamo indietro vi parlavo anzi abbiamo finito di parlare del display e della versione del sistema operativo 7,9 mm lo spessore qui c'è il pulsante di accensione sulla destra mentre a sinistra abbiamo il controllo del volume e un doppio slot per le due sim card nella parte superiore abbiamo il microfono principale in quella inferiore abbiamo un po di cose l'altoparlante di sistema la porta usb tepsi il microfono principale è molto molto bene anche la presenza del jack audio da 3,5 mm prima vi ho parlato brevemente anche del finger print è un finger print che mi è piaciuto tantissimo è molto molto veloce devo dire che rappresenta tra l'altro rispetto al mi 8 pro un miglioramento nettissimo mi è piaciuto veramente veramente tanto tra le altre cose il telefono utilizza un motorino per la vibrazione lineare che secondo me regala un feedback veramente piacevole anche nel riconoscimento dell'impronta digitale ma nella digitazione nei tocchi che prevedono una una notifica è davvero piacevole c'è una vibrazione molto corposa ben sostenuta che anche in questo caso rappresenta secondo me è un passo in avanti veramente importante rispetto alla generazione precedente fotocamera abbiamo 50 megapixel il sensore principale tra altre cose il sensore un sony imx 766 quindi con un pedigree notevole un sensore che è stato utilizzato nella scorsa generazione su dei top di gamma quindi è un sensore veramente di qualità notevole con stabilizzazione ottica ed elettronica 8 megapixel per la grande angolare abbiamo poi un elemento da 2 megapixel per il rilevamento degli effetti di profondità 4500 miliampere la batteria una batteria che non arriva ai 5000 miliampere di qualche altro telefono anche di casa a real mima che garantisce delle ottime le prestazioni in tema di autonomia si arriva sera senza il minimo problema tra le altre cose è un telefono che non mi ha mai dato la sensazione di avere dei problemi di surriscaldamento quello del riscaldamento è un fenomeno che varia in base a tantissimi fenomeni anche dove ci si trova quante a quali celle ci si collega il wifi insomma ci sono diverse variabili certamente una condizione di strada del processore fa aumentare le temperature in questo caso mi sembra che siano ben controllate con il vantaggio di non andare a creare dei problemi sul riscaldamento della batteria quindi di un deterioramento precoce della batteria se arriva sera senza problemi con il grande vantaggio di avere anche la ricarica a 60 watt quindi un telefono e una batteria che si ricaricano con con grandissima velocità parlando dell'interfaccia vi ho già fatto vedere alcuni dettagli ma credo giusto anche indugiare su una nuova sistemazione dei menu principali con un nuovo intervento grafico che personalmente ho davvero molto gradito qui nella voce strumenti troviamo alcune applicazioni importanti pre pre installate la calcolatrice un ottimo registratore vocale la busta la possibilità di clonare il telefono quindi di trasportare dati da un altro dispositivo una modalità gioco real me link che ci permette di condividere tutto l'ecosistema di real me io utilizzo anche un piccolo robottino di quelli che fa le pulizie in casa che devo dire funziona funziona molto bene potete connettere gli auricolari dovrei averne anche qui a disposizione 12 poi si questo piccolo custodia nera ma c'è anche quello verde che è molto carino sempre di dire al me o uno smartwatch che dovrebbe essere qui intorno anche lui si collegano tutti tramite questa applicazione che raccoglie tutto l'ecosistema e vi fornisce una anteprima di tutto ciò che state utilizzando in maniera estremamente estremamente semplice andiamo a dire se c'è anche qualcosa di particolare anzi farei una cosa vediamo il livello di personalizzazione perché si può lavorare su molti moltissimi dettagli grafici proprio del telefono sugli sfondi sul mix dei colori sulla grafica delle icone sulla dimensione dei caratteri entriamo nello schermo dove troviamo innanzitutto la possibilità di switchare tra la modalità scura e la modalità chiara anzi è viceversa la loro il loro posizionamento ma una cosa importante la troviamo qui ecco velocità di aggiornamento dello schermo che può arrivare fino a 90 hertz lo vedete c'è qui un menu dedicato se lasciate la modalità standard funzionerà sempre a 60 hertz se lasciate la selezione automatica il telefono deciderà dinamicamente qual è il la frequenza del aggiornamento migliore in base al contenuto che state osservando questo vi permetterà anche di massimizzare ulteriormente le prestazioni della batteria nella voce batteria troverete anche la possibilità di attivare un risparmio energetico ma anche una modalità prestazioni che in questo caso vedete bene evidenziata da questa iconcina verde nella parte superiore perché il telefono vi segnala che si avete la disponibilità delle massime prestazioni di tutto il sistema hardware ma che naturalmente questa cosa aumenta anche i consumi energetici del del dispositivo vediamo qui via via se trovo qualcosa di particolarmente interessante c'è sempre la balla questa barra laterale scusate che vi permette di avere in evidenza alcune alcune applicazioni le finestre mobili sulle display uno spazio bambini per dedicare alcune funzioni e anche un lasso temporale l'utilizzo dei bambini una modalità semplificata che magari farà comodo a chi è meno a meno malizia l'utilizzo di questi moderni moderni smartphone vediamo se trovo ancora qui qualcosa di interessante la possibilità anche di modificare il layout dei pulsanti nella parte inferiore se volete potete usare le gesture se no invertire la sequenza quindi utilizzare il multitasking a sinistra il tasto back a destra io preferisco la configurazione che state vedendo in questo momento possibilità di impostare i settaggi degli screenshot della registrazione video c'è veramente da perdersi connessione otg ovviamente attivabile anche per questo telefono c'è la possibilità di clonare le applicazioni c'è la possibilità di proteggere con un blocco quindi blocco applicazioni potete inserire una password o uno dei sistemi di sblocco per far sì che le applicazioni possono essere utilizzate se ad esempio prestate il telefono a qualcuno e naturalmente questo è importante per la protezione dei nostri dati personali andiamo a vedere anche i nostri consulti test partendo dalla parte telefonica c'è una sim di iliad in questo telefono in questo momento quindi eseguiamo la chiamata al servizio clienti e attiviamo il vivo benvenuto in iliad ti ricordiamo che la chiamata è gratuita se chiami da rete iliad allora la parte telefonica mi è piaciuta tanto a tutto tondo un telefono che prende bene a livello di segnale radice trasmissioni non ha nessun tipo di problema e come avete sentito c'è un volume decisamente alto in viva voce ma anche in capsula forse c'è qualche sonorità un filo metallica ma siamo veramente dettagli credo che nell'utilizzo quotidiano sia molto bene avere un volume piuttosto alto non ci sono mai eccessive distorsioni anche quando ci si avvicina al picco massimo di volume quindi il livello di comfort è molto buono e è una situazione da preferire soprattutto quando si lavora magari in ambienti rumorosi ho provato utilizzare il telefono anche in automobile utilizzando il viva voce del telefono non quello dell'automobile e mi sembra che si comporti molto bene perché si riesce a dialogare senza problemi perché riusciamo ad ascoltare in maniera opportuna il nostro interlocutore navigazione internet vediamo qui cosa c'è qualcosa che riguarda tanto per cambiare le vicende di facebook eccetera eccetera la navigazione internet è molto molto buona come potete vedere il sistema riesce a digerire senza problemi una grande mole di dati non ci sono particolari rallentamenti non ci sono scattosità devo dire che anche in questo caso il dimensity 920 riesce a fornire delle prestazioni di assoluto valore ed interesse andiamo a vedere infine la gestione delle fotocamere come come oramai da tradizione di quasi tutti gli smartphone android in realtà abbiamo questa due questo doppio questo doppio layout con nella parte destra tutte le varie possibili scelte modalità fotografica automatica il ritratto la possibilità di utilizzare l'interesse del sensore con i suoi 50 megapixel qui altre funzioni con la ultra macro la modalità panoramica lo slow motion la possibilità di riprendere foto e video con entrambe le fotocamere se quella anteriore che quella posteriore la modalità video che può arrivare fino al 4k a 30 fps o a 1080 a 60 fps una modalità notturna è una modalità che viene definita strada che farà felicità di chi fa tanta street photography perché permette in maniera molto veloce di eseguire degli scatti con gli scatti molto rapidi quindi passare lo vedete è cambiata cambia leggermente anche la parte grafica delle icone quindi con la ultra wide la 24 mm che è poi l'elemento normale è un in fotografia è già un grand'angolo piuttosto spinto negli smartphone abbiamo imparato ad accettarla come una lente standard ma in fotografia un 24 mm già un tra un grand'angolo piuttosto spinto e poi diciamo un 50 mm che in fotografia è la cosiddetta lente normale che in questo caso è un 2x rispetto alla lente di partenza cioè a quella principale la 24 mm da qui poi si può accedere a una serie di filtri creativi di impostazioni creative molto belle per esempio si può utilizzare un tempo di esposizione piuttosto lungo vedete in questo caso ci sono addirittura 5 secondi con una serie di attività di filtri che sono molto divertenti come ad esempio le scie luminose è una un tipo di fotografia che io adoro sia per le scie luminose e ancora di più per l'effetto seta dell'acqua divento matto veramente quella quando mi dedico alla fotografia vera con i filtri nd che attacco sulla mia fotocamera una cosa molto piacevole che qui si riesce a gestire con estrema estrema facilità da qui si può lavorare anche sul file non compresso quindi si passa dal jpeg al raw consentendoci poi una enorme possibilità di post produzione perché abbiamo una quantità di dati memorizzati sul file enorme quindi possiamo andare a recuperare alte basse luci eccetera eccetera quindi una grande possibilità di post produzione aspetto di forma della fotografia 16 noni schermo intero quattro terzi o con il quadrato da qui si entra poi in tutte le altre varie impostazioni di scatto tra le quali vi segnalo anche ad esempio la presenza della griglia di composizione la vedete per utilizzare bene la regola dei dei terzi identificare i corretti punti di forza sono per una fotografia un pochettino più meditata allora prendiamo il mio giocattolino colorato per eseguire un rapido scatto ne facciamo due telefono ci dice di spostarci un po più lontano ma mi pare che fossimo lo stesso a fuoco apriamo l'immagine forse si è disattivata la rotazione automatica si eccolo qui adesso gira si aveva ragione io dai è venuta a fuoco l'immagine con una buona resa del colore direi anche un effetto di deformazione molto molto contenuto allora qui ci sono degli screenshot che ho preparato anche per la rivista ma noi facciamo una cosa andiamo con ordine queste sono una sequenza di immagini che di solito cerco di acquisire con la stessa metodologia le prime che stiamo vedendo sono con inquadra e scatta con ultra wide focale standard e qui provando a utilizzare il 2x e qui tutto lo zoom digitale adesso vi dico quant'è perché non me lo ricordo mi pare che sia 20x ma adesso lo andiamo a verificare questo invece con la modalità notturna allora io devo dire che sono rimasto già piuttosto contento della resa soprattutto del sensore principale quando si scatta con l'inquadra e scatta come vedete c'è una resa nettamente nettamente migliore del sensore da 50 megapixel rispetto all'ultra wide soprattutto quando si va a cercare il dettaglio c'è una differenza veramente importante questa è un'immagine secondo me molto molto buona anche considerando la categoria dello smartphone un'immagine molto buona questa ha una buona gestione della della prospettiva tutto sommato le zone anche quelle più scuri sono ben leggibili però se andiamo a zoomare il dettaglio sparisce praticamente subito quindi direi che le prestazioni migliori sono sicuramente quelle ottenibili con la fotocamera principale guardate che bello anche questo 2x quindi questo 50 mm che bella resa bisogna zoomare la foto oltre al 100% per andare a trovargli della grana perfettamente visibile che qui invece con questo zoom eccessivo invece è evidentissima questa è la modalità notturna che sicuramente migliora la situazione ma direi che non fa non va a modificare gli equilibri cioè c'è un netto vantaggio della fotocamera principale rispetto alla ultra wide quindi credo che sia bene quando possibile soprattutto nelle condizioni difficili cercare di scattare con la fotocamera principale perché c'è una differenza prestazionale molto molto importante devo dire che comunque è soddisfacente la gestione del 2x perché viene utilizzata ovviamente la fotocamera principale con un intervento degli algoritmi che va a deteriorare in maniera veramente modesta la presenza del dettaglio ovviamente se poi invece si scatta di giorno tutto cambia e adesso andiamo a vedere questa foto non è in più ma è la foto scattata con la 50 megapixel intendo dire con l'intera disponibilità dei 50 megapixel perché le altre immagini che avete visto sono soggette a pixel binning quindi con una risoluzione più bassa questa foto la potete riconoscere anche perché c'è il formato che è molto lontano dal 16 noni che abbiamo visto in queste altre immagini andiamo a vedere invece le immagini scattate di giorno allora partiamo da qui questi sono dei video però no allora 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 eccole qui ultra wide con secondo me un ottimo livello di correzione anche di tutte le linee orizzontali si c'è un pochino di leggermente sono leggermente inclinati i palazzi qui sulla sinistra ma in realtà forse la foto è anche leggermente storta questa è colpa mia non del telefono mi sembra che c'è un livello di correzione delle prospettive molto buone guardate anche i palazzi come sono i grattacieli i tre grattacieli di piazza 3 torri come sono ben riprodotti questa invece è una foto scattata con la focale normale quindi con la 24 mm c'è una buona resa di dettaglio anche in questo caso è stato ben interpretato anche il cielo oppure le parti più chiare non sono bruciate alte e basse luci sono ben gestite qui ho provato come sempre a indugiare con gli zoom vi ricordo che c'è uno zoom digitale un 2x digitale qui invece mi sono spinto con con la massima estensione dello zoom immagini scattate con la fotocamera frontale qui con il consueto inquadra scatta riconoscete che c'è una sorta di messa a fuoco a infinito si vede sia il mio testone ma anche la parte di dietro è perfettamente visibile quindi quasi completamente a fuoco in questo caso ho utilizzato la modalità ritratto e come potete vedere invece il mio testone è stato scontornato direi non perfettamente perché c'è qualche artefatto proprio qui sulla calotta però come potete vedere c'è una presenza molto più evidente della mia figura rispetto allo sfondo quindi direi che c'è un livello di ritratto anche piuttosto buono qui qualche prova pure per la gestione del video con la fotocamera frontale che direi funziona piuttosto bene peccato non aver trovato la messa a fuoco continua della fotocamera frontale allora io credo che da qualche parte dovrebbe esserci anche qualche foto in interno allora vediamo queste sono con la modalità ritratto questo è un manichino che in questo momento si trova qui alle mie spalle che uso per la verifica della ritrattistica come potete vedere la resa è anche in questo caso piuttosto buona c'è uno stacco forse addirittura fin troppo netto tra la sagoma della capigliatura di questo manichino e questi quadretti che ci sono che sono appesi dietro però è ben gestito non ci sono imprecisioni non ci sono sbavature guardate qui questa è la stessa immagine senza la modalità ritratto e è bella anche questa guardate anche i dettagli anche questo in questo caso come sono ben riprodotti devo dire che la modalità ritratto funziona piuttosto bene sia con la fotocamera frontale che con la fotocamera principale qui quelle sono un'altra è una serie di altre immagini che ho preparato invece per il test della rivista che pubblicheremo tra qualche mese sul sulla nostra rivista cartacea sul cellulare magazine che troverete in edicola bene facciamo il riassunto di questo nuovo realmi 9 pro plus è un telefono secondo me è veramente molto molto valido un telefono con più o meno tutte le cose al posto giusto con un buon display spicca la frequenza aggiornamento a 90 hertz ma c'è una buona resa colore c'è una buona resa per ciò che riguarda il picco di luminosità è certamente un buon display non è il migliore che c'è in giro ma è certamente un buon display abbiamo appena finito di parlare del reparto delle fotocamere vi ricordo che il sensore da 50 megapixel è un sony mx366 quindi un sensore importante c'è una buona autonomia un ottimo livello di ricarica è un reparto audio che mi sembra funzionare davvero piuttosto bene ben ottimizzato difetti si sporca molto molto facilmente sia la parte frontale che la parte posteriore l'ho pulito veramente un sacco di volte prima di iniziare la recensione ma come potete vedere basta toccarlo per lasciare le ditate di contro vi ricordo che c'è la versione sunrise blu mi pare che si chiami che c'è questa cosa particolarissima di poter modificare il colore molto bene la presenza del jack audio non mi piace l'assenza dell'espansione di memoria che non c'è due tagli di memoria 128 o 256 giga con prezzi che uscirono tra 399 e 499 euro mi fermo qui per la recensione del nuovo realme 9 pro plus e vi rimando ai prossimi video un saluto da ivan